Eccoci qua e eccoci tornati e devo dire che siamo tornati davvero a una vecchia usanza, cioè la mia, il mio vezzo, la mia volontà di proporre a Flavio delle puntate tematiche. Sapete, c'erano quelle stagioni dove ho detto, Flavio c'è questo tema, i pirati che tutti avevano il nome che inizia per F, ma che tema è? Io unisco un po' la pirateria attraverso dei temi così e allora ho detto a Flavio facciamo una puntata tematica che poi se è successo magari la estenderemo, dedicata a degli episodi di razzie particolarmente violente, perché caro Flavio, te ne sarei accorto anche tu, ai nostri fan piace questo, cioè è una roba che veramente, noi proviamo anche a parlare di l'uso delle spingarde, come cazzare la randa, No, voi volete pirati nudi, oliati che si buttano all'arrembaggio e squartano persone, ma perché? Gente che si regge le budella mentre continua a sparare. Esatto, e anche il colera, così aggiungiamo, ma perché? Io un giorno scriverò una mail alla Royal Navy, l'ho già detto e lo farò, dirò chiudete questo podcast perché non si può, quindi oggi parleremo dei barbareschi, faccio solo una parentesi, ovviamente perché se no... Il bello è che hai detto oggi, razzie di pirati è il tema, quindi oggi parleremo dei barbareschi. Ecco, bravo, siccome sapevo che sarebbe suonata male, perché noi magari descriviamo i barbareschi, ah mamma li turchi, i danni fatti all'Italia, e poi i pirati invece dei caraibi, ah eroi, miti anarchici, no, ovviamente erano dei folli criminali ovunque li guardassi. La storia dei barbareschi è molto intrisa di episodi sanguinosi, erano anche pirati dediti alla vendita di schiavi, ora poi vedrete, quindi sicuramente andando poi a scavare abbiamo descritto anche episodi di grande violenza di pirati europei, pensiamo solo all'Olonese che da solo praticamente sovrasta qualsiasi razia barbaresca forse, però oggi ci concentreremo sui barbareschi. Ah, dei barbareschi, Flavio abbiamo anche citato poi delle figure quasi eroiche come i Barbarossa, oggi invece parleremo di figure meno eroiche. Ma prima prepariamoci, un po' di training autogeno, con la sigla. Allora, eccoci qua, partiamo, caro Flavio, da una storia di rapimenti, appunto, come dicevo, ad opera. Iniziamo bene, ma è qualcosa di romantico oppure no? No, no, devo dire no, devo dire che è una storia veramente tinta di tragedia, sicuramente da incubo per coloro che l'hanno vissuta. Di certo noi sul tema dei rapimenti, ecco come dicevi tu, romantico no, perché noi abbiamo avuto modo in passato di citare anche aneddoti legati al folklore, ma anche alle leggende italiane, ai miti, che sono sempre un po' più legati anche a delle sfumature romantiche, soprattutto le storie legate alla nostra penisola, legate al Salento. Abbiamo già avuto modo, appunto, di parlare dei barbareschi in queste salse, però ho deciso io di parlare di un episodio avvenuto in Islanda, storicamente molto importante per l'Islanda, e anche di complicarmi la vita, perché passiamo da paesini italiani dove le pronunce erano ovviamente naturali, a luoghi islandesi, e quindi già noi facciamo fatica con le pronunce, oggi Flavio mi cimenterò con parole. Che bello è che hai fatto tutto da sola. Tutto io, scelto io, e mi complico la vita io. La vera razzia sarà forse il modo in cui io distruggerò le parole islandesi. Però un po' mi sono cercato di studiarmi anche con Google Translate e poter dire tutto in maniera giusta, perché il tema appunto è molto serio. Vi dico solo che gli incresciosi episodi sono avvenuti in Islanda nell'estate del 1627 e prendono il nome in islandese, già solo il nome che definisce questo episodio è una parola che ha, ti faccio un veloce spelling, T-Y-R-K-J-A, insomma molto difficile, però si pronuncia Shiskyaronnes, che starebbe per l'invasione turca o la razzia turca, e quindi descrive esattamente questo episodio. I corsari, in questione di cui stiamo, i predoni di cui stiamo parlando, provenivano da Algeri e Salè. Vi ricorderete che Salè l'abbiamo descritta come questa sorta di Nassau, di corsari barbareschi, no? Ti ricordi, Flavio, come questa città molto importante dove avveniva una proliferazione della pirateria. Ora, questi pirati di Algeri e Salè fecero le loro incursioni a Klintavik, nei fiori orientali e a Vest-Manersh. Ora voi direte, ma che ha detto, che parole ha detto? Vabbè, in Islanda, se vi interessa esattamente in Islanda. Ora, la stima finale di questa sortita di questi barbareschi, di questi furfanti del mare, ammonta a 50 persone uccise, 400 prigionieri venduti al mercato degli schiavi e successivi anni logoranti di trattative per pagare i riscatti, per liberare alcune delle persone rapite, perché ovviamente i barbareschi, lo vedremo, offrivano anche questa possibilità del riscatto delle persone rapite e era quindi una entrata duplice. O ti vendo come schiavo, comunque qualcuno ti reclamerà e mi pagherà. Quindi per me tu sei una risorsa in questo senso. È una storia di pirati che non ci vede, stavolta, come vi dicevo nell'intro, dalla parte di allegri predoni che sognano la libertà e ammirano il mare. È una storia di violenza, è una storia di sopprusi, è una storia di brutalità. Come al solito, quando parliamo di pirati, i piani si mescolano molto, no? Primo gruppo di predoni, come ho detto, venivano da Algeria e da Salè. Il primo gruppo arrivò da Salè, il secondo arrivò un mese dopo, quindi le coste vennero proprio nel giro del primo e del secondo mese assaltate in maniera veramente brutale in tempi molto ravvicinati. Il comandante del gruppo di Salè era tale Murat Reis, olandese, divenuto pirata dopo essere stato catturato, come spesso accade, e al quale, frase che ci piace spesso dire, dedicheremo una puntata a parte. Però pian piano l'abbiamo fatto, questo va detto. Pian piano stiamo facendo. Però c'è anche da dire che questo episodio che hai messo insieme, tirando fuori un tema comune, anche se un po' farlocco, darà vita a molte altre persone che potremmo mettere in lista. Sì, perché nominiamo persone. Ok, immaginiamoci la scena, proviamo a entrare nel vivo della situazione e proprio immaginarcelo. È il 20 giugno 1627, fu questo un giorno funesto, sì per l'Islanda, ma soprattutto per il villaggio dei pescatori di Klintavik. Possiamo immaginare che qualcuno avvistò le vele, i vessilli dei predoni, già quando questi erano lontani dalla costa, non lo so, possiamo immaginare sicuramente il panico che si crea in una situazione del genere. Quando i pirati sbarcarono a terra, catturarono decine di islandesi e altrettanti marinai danesi e olandesi. Due persone in questa sortita perirono. Due navi vennero prese con la forza, una venne lasciata lì, ma comunque depredata. I pirati provarono, dopo aver concluso questo saccheggio, a spostarsi verso un'altra località, la sede del palazzo del governatore danese in Islanda. Ma stavolta non riuscirono a mettere piede a terra. La deterrenza, come spesso accade in questi casi, cosa fu? Cos'è che li tenne lontani, in questo caso dall'assaltare il governatore? La bocca dei cannoni che sparò contro di loro e le fortificazioni. È veramente interessante anche vedere come avessero tentato di attaccare il governatore a quasi dei richiami a opere narrative o di fantasia. Invece è una storia che mostra dei pirati che sì, in questo caso se ne sono andati con la coda fra le gambe da questa località, ma visto l'assalto che avevano fatto prima a Klintavik, se ne vanno con un buon bottino, se ne vanno con un buon numero di individui rapiti, tornano verso casa, tornano a Salè dove vendono gli schiavi. Un mese dopo l'Islanda ripiomba nell'incubo, l'incubo che torna a farsi reale, perché un gruppo di pirati, appunto quello di Algeri, piomba sui fiordi orientali, assediandoli nelle giornate fra il 5 e il 13 luglio del 1627. Una nave mercantile viene depredata e affondata, ma a parte i legni, a parte i natanti, è il numero delle vite umane coinvolte a fare spavento. 110 islandesi vennero catturati, oltre all'equipaggio della nave che ho citato adesso. Altri beni vengono presi, vengono rubati, anche bestiame. Quindi immaginiamo anche chi non è stato rapito, anche chi magari la scampata è stato nascosto, non è stato trovato dai pirati. Comunque c'è stato un danno economico notevole agli abitanti di questo villaggio, anche a chi poi è rimasto lì. I pirati questa volta agirono indisturbati, non ci fu nessun colpo di cannone a fermarli, nessun tipo di difesa. Ci fu però un intervento delle forze esterne. Quando loro si misero per mare, un forte vento li costinse a puntare la prora verso la costa meridionale dell'Islanda, dove lì incontrarono un'altra nave pirata e si allearono per catturare un peschiereggio inglese. È molto interessante questo, Flavio, perché da quello che si capisce la filosofia di questi pirati barbareschi era ok, noi usciamo, noi lasciamo le nostre coste, ma quando lo facciamo dobbiamo veramente dare il tutto per tutto. Cioè dobbiamo tornare con le tasche piene in tempi brevissimi, dobbiamo fare azioni fulmine, ma violentissime. Cioè uscivano per un motivo veramente che fosse ben determinato, non c'erano mai andiamo a tentare di attaccare questo villaggio. Erano veramente azioni molto mirate, violente, precise ed efficienti. Questo è molto interessante. E questa stessa genga di Predoni il 16 luglio era a Westmanersh, che pronuncia a parte, è un gruppo di isole. Anche queste furono teatro di orrore. Assedi di giorni, incursioni nei villaggi, 234 persone catturate e 34 uccise. Non vennero risparmiati nemmeno anziani, infermi, eccetera. E chi cercò di ribellarsi non oso immaginare, ovviamente, come venne passato al fil di sparo. Solo il 19 luglio le navi lasciarono queste isole che erano diventate ormai un teatro di orrore e tornarono a casa, veleggiarono verso casa. Questo episodio, caro Flavio, è interessante perché è l'unico attacco di tipo bellico che l'Islanda ha subito che abbia ammietuto vittime. Cioè questa esperienza tragica dell'Islanda è legata solo ed esclusivamente ai pirati. E per noi che li trattiamo... Gli unici che sono riusciti ad attaccare l'Islanda e a fare danno sono stati i pirati. Esatto, questo per noi che li studiamo è molto interessante. Beh, tenendo conto che l'Islanda poi patria dei pirati, perché vichinghi... Esatto, è vero. È vero, è vero. E vi do qualche altro dettaglio proprio per farvi immedesimare nell'epoca che stiamo trattando. Algeri era una città-stato all'epoca. E come vi dicevo Algeri, Salè o comunque tutte le basi dei pirati venivano utilizzate per portare... Perché di solito no? Si immagina... Dall'immaginazione popolare il pirata che sì ti deruba... ti svuota la stiva ti assalta un villaggio e ruba quanto può di beni e quant'altro. Ma noi lo abbiamo sempre spiegato con il nostro podcast anche quando parlavamo dei pirati dell'epoca classica del Mediterraneo al famoso episodio con Giulio Cesare stesso protagonista. I pirati erano interessati come bottino anche alle persone. Persone che nel caso di Algeri e di altre città simili erano vendute al mercato. E oltre all'esperienza di essere rapiti, portati altrove, venduti come schiavi... Noi, nel descrivere questa cosa orrenda, stiamo dando per scontato che queste persone arrivassero vivi al mercato degli schiavi. Non è detto. Molti in viaggio morirono. Molti morirono di malattie una volta in Africa per non parlare di eventuali sicuramente soprusi e percosse, violenze nel caso di tentativi di ribellione e di fuga. Otto anni dopo gli eventi che abbiamo trattato della razzia islandese si registra che 70 islandesi documentati erano ancora cristiani mentre gli altri si erano convertiti all'islam. Non so, Flavio, se era proprio un moto di religiosità interna che era scoppiata, non lo so, non lo so dire questa cosa. Probabilmente, dai, probabilmente. Riporto la lettera di un prigioniero di nome Halston del 1631. C'è una grande differenza qui tra i maestri. Alcuni schiavi in cattività diventano padroni buoni, gentili o intermedi, ma alcuni sfortunati si trovano con tiranni selvaggi, crudeli e duri di cuore che non smettono mai di trattarli male e che li costringono a lavorare, faticare con abiti scarni e poco cibo legati in catene di ferro dalla mattina alla sera. E poi c'è l'esperienza del nobile francese Manuel D'Arande nel suo libro del 1666 dove racconta proprio la sua storia come schiavo del corsaro barbaresco a Libich Tien e lui afferma che un compagno islandese prigioniero ad Algeri gli disse che 800 persone erano state rese schiave da questa razzia appunto che era accaduto. Però questo numero non è in realtà concorde con nessuna delle stime ufficiali. Il primo grande riscatto fu pagato nove anni dopo i rapimenti quando 34 islandesi furono portati da Algeri. e quindi una storia come abbiamo visto di una razzia molto violenta molto fulminia ci dice molto come dicevamo proprio sul modus operandi dei pirati barbareschi un pezzo veramente interessante di storia sia della pirateria che della storia di Islanda. Questo per farvi capire che la puntata di oggi proprio vi vuole portare in tematiche molto crude senza risparmiare né dettagli né elementi particolarmente tragici e caro Flavio qualora ripeto questo tema vi garbasse noi possiamo trovare molti episodi dove i pirati hanno dato assalto rendendosi responsabili io ci andrei cauto nel invitare le persone a chiederci questo non ce le chiedete esatto voi chiedete ma no parlateci di come si naviga quella indifferenza fra velieri ci rilassiamo anche noi perché cercare tra l'altro il personaggio che Flavio ci presenterà già dal nome è cupo è tenebroso perché Flavio mi ha detto io parlo di questo ho detto ma ancora meglio ho detto io Flavio ci vogliamo parlare allora anzitutto ho notato una cosa tanto per tornare sul tema delle puntate che dobbiamo fare è che siamo tornati a parlare di corsari barbareschi saltando l'epoca a pie pari la battaglia di Lepanto ecco perché immagino immaginato già che tu vuoi dedicarci un episodio perché ce lo stai preparando quindi va bene andiamo avanti così quindi ecco come hai detto tu giustamente oggi parliamo anche di un corsaro barbaresco che potrebbe forse forse inaugurare ecco un altro episodio dedicato a quei tanti pirati europei che hanno cambiato bandiera magari spinti da un fervore religioso come dicevi tu chissà per andare a combattere appunto per l'altra sponda del Mediterraneo parliamo oggi infatti di Hussein Pasha detto mezzo morto ecco ma proprio in italiano il suo nickname era proprio in italiano perché pare che lui fosse un corsaro spagnolo di Mallorca che catturato dai corsari appunto di Algeri decise di cambiare spondare legione e bandiera e mettersi a fare il corsaro barbaresco però io sfido anche chi non vorrebbe imbarcarsi al seguito di capitano mezzo morto sembra finto sembra finto direi anzitutto di dire che questo soprannome se l'è guadagnato sopravvivendo a una battaglia che lo lasciò appunto mezzo morto proprio letteralmente deve il suo nome a un evento del genere però ecco andiamo a vedere un attimo che cosa ha combinato nella sua carriera come ho detto sicuramente quasi sicuramente nasce in Spagna a Mallorca alcune fonti dicono che si tratta di un turco ma in realtà è molto più probabile che sia stato uno spagnolo e che certamente è entrato nelle fila della marina turca tra i corsari di Algeria in particolare appare alle cronache nel 1674 per poi farsi notare in realtà per abilità navale nei primi anni 80 del 600 in difesa dell'Algeria contro un attacco francese l'Algeria come sappiamo era patria una delle dei grandi roccaforti dei corsari barbareschi quindi era presa ad assalto ogni volta che c'era occasione da parte delle marine europee che non ne potevano più di farsi crivellare dai corsari barbareschi ora abbiamo detto la Francia attacca l'Algeria negli anni 80 del 600 e qui il nostro mezzo morto si distingue perché instaura un particolare rapporto con i francesi ovvero fa un gioco un po' alla Clint Eastwood nel punto di dollar nel senso siamo in una situazione di blocco navale la marina francese riesce a bloccare il porto di Algeri e quindi Algeri è nei guai nella speranza di calmare gli animi dei francesi allora il signore di Algeri che era un tale Baba Hassan decide di spedire qualche dono all'ammiraglio nemico tra cui spiccava tra i doni proprio Hussein Pasha mezzo morto come ostaggio quindi un po' di dono di ostaggio diciamo la cosa però si rivolge decisamente contro lo stesso Baba Hassan visto che mezzo morto scende a patti con l'ammiraglio francese un tale Duken sempre che lo pronunci bene e si fa spedire indietro da Duken a fomentare un'insurrezione che va a finire per porre Hussein Pasha come nuovo signore di Algeri al posto di Baba Hassan che possiamo immaginare che fine fece ecco l'accordo però non solo non volse a favore di Baba Hassan ma nemmeno dell'ammiraglio Duken perché la prima cosa che fa mezzo morto appena diventa governatore di Algeri e lanciare un bombardamento contro la flotta francese eccola e costringerla a siglare un accordo di pace ora io dico vatti a fidare dei pirati queste cose non succedono mai non hanno mai imparato dalla storia questo questo accordo di pace doveva durare sulla carta ben 100 anni e ne durò più o meno 5 ecco perché dopo passati 5 anni mezzo morto e Duken ricominciarono a bombardarsi a vicenda Usain Pasha ebbe appena appena il tempo di sedare alcune rivolte in Tunisia prima poi di appunto di ricominciare a combattere con i francesi e c'è anche da dire che Usain Pasha visto anche il nickname che si portava dietro non era proprio tagliato per fare il governatore era molto più bravo come pirata e infatti assediato nuovamente da Duken dalla flotta francese decide di contraattaccare mandando direttamente le navi nei porti a cannoneggiare praticamente i suoi stessi porti perché cannoneggiava le navi francesi ormeggiate quindi questa tattica che sfruttò sfruttando la flotta piuttosto che le fortificazioni mise alle strette in realtà la flotta francese e costringe la Francia ad arrendersi e chiedere anche un trattato di pace al sultano che all'epoca era Suleiman II i successi di Mezzomorto poco da dire riecheggiarono talmente tanto nell'impero ottomano che lui iniziò sai come era successo a Barbarossa a Turgut eccetera iniziano a collezionare i titoli a quel punto sì sono signore del geni ma sono anche governatore di questo e ammiraglio della flotta infatti lui ottiene un titolo molto prestigioso che è quello di ammiraglio della flotta del Mar Nero il Mar Nero come sappiamo all'epoca era un crocevia essenziale cioè in realtà lo è anche oggi la geopolitica della zona crocevia essenziale per mantenere i confini dell'impero ottomano nei confronti degli imperi centro-europei e quindi l'ammiraglio della flotta del Mar Nero era inevitabilmente un titolo molto ambito per i marinai arriviamo quindi al marzo del 1690 e vediamo un Mediterraneo tanto per cambiare a ferro e a fuoco perché infuria stavolta la lotta per il dominio sul mar Egeo tra la Repubblica di Venezia e l'impero ottomano in questo frangente torniamo sulla scia di Hussein Pasha mezzo morto alla guida di una flotta di dieci velieri pronto a dare la caccia a due ufficiali veneziani intenzionati a rafforzare la posizione della Serenissima nelle isole Cicladi a capo della flotta veneziana c'è l'ammiraglio Valier che non riuscendo a distanziare gli ottomani che gli danno la caccia decide di accettare la sfida e dare battaglia a mezzo morto come sarà andata a finire la battaglia navale bisogna dire che fu lunga e molto sanguinosa pensa che durò quasi un'intera giornata e quando immaginiamo battaglie navali sui velieri non dobbiamo immaginarcele molto come nei videogiochi ma dobbiamo immaginarci delle rapide schermaglie seguite da lunghe manovre navali intente a sfuggire a cercare di togliersi dal tiro dei cannoni a cercare di sfruttare le proprie armi al meglio quindi insomma è una cosa complicata e lunga e questa battaglia durò quasi una giornata sana almeno per una delle due navi ammiraglie venete che finì alla fine incendiata sul mare mentre l'altra continuò a lottare strenuamente fino a notte fonda e ti lascio immaginare quanto potesse essere complicato combattere in mare di notte l'ammiraglio Valier alla fine rimane ucciso in battaglia colpito in pieno da un colpo di cannone dettaglio che sono sicuro i nostri ascoltatori ameranno quindi mezzo morto in questa occasione sconfigge Venezia e anche se si lascia sfuggire un po' un po' ingenuamente un gruppetto di prigionieri che nottetempo riesce a svignarsela a remi a raggiungere le coste dell'amica isola di Milos poi però ecco bisogna dire che nonostante la fuga di prigionieri la battaglia fu molto importante per la carriera di Usain Pasha perché effettivamente riuscire a sconfiggere un ammiraglio della Repubblica di Venezia non era proprio un'impresa da poco non era più l'epoca di Barbarossa in cui l'impero ottomano aveva un dominio sul mare imbattibile e qui le forze erano molto più bilanciate arriviamo quindi facciamo un piccolo salto di cinque anni febbraio 1695 Venezia pensa bene di attaccare e conquistare Chios e qui ancora una volta vediamo come le forze in gioco erano più bilanciate il sultano nel frattempo era cambiato al suo posto al posto di Suleiman II adesso nel palazzo di Topkap sedeva Mustafa Khan II che a differenza di altri giochi di potere che abbiamo visto in passato alla corte ottomana finì per confermare in realtà i titoli di Hussein Pasha mezzo morto anzi visto che Venezia si espandeva e che mezzo morto aveva la fama di aver sconfitto un grande ammiraglio veneto si beccò anche il titolo di ammiraglio della flotta del sultano e anche il titolo di signore di rodi che era un titolo particolarmente importante vista la posizione strategica dell'isola di rodi e quindi ti lascio la parola adesso in questo mondo nel fine del 600 un mediterraneo in lotta un mediterraneo che però se la batte le forze in gioco se la battono non c'è più un potere che capovolge le sorti di qualsiasi battaglia ma ci sono dei corsari che si battono marine militari che scappano altre che inseguono isole nemiche e insomma un gran casino in cui i corsari ovviamente riescono i vincitori perché noi sappiamo bene che i pirati riescono al meglio dove c'è più casino perché non sono quelli che fanno più casino esatto e soprattutto ti lascio la parola salutando Capitan Mezzomorto oh ma infatti io ringrazio Fabio per questa sua importante parentesi e voglio far notare come questo episodio dedicato alle razzie atroci dei pirati in particolare alla furia dei barbareschi ci ha mostrato come uno che si chiamava Mezzomorto che ha causato cannoneggiamenti bombardamenti incendi di guerre fino a tardanotte tutto il giorno morti ed era mezzo morto cioè pensa si fosse chiamato Stobenino Hussein cioè lì avrebbe era pieno di energie violentissime questo individuo e ci ha riempito la testa di immagini molto molto sanguinolenti gore per cui direi caro Flavio di rilassarci un attimo voglio andare a parlare di un uomo che era però un artista uno scrittore dalla penna delicata che ha vissuto in questi anni che stiamo raccontando anche la battaglia di Lepanto e quant'altro però uno scrittore così magari ci togliamo un po' da questa atmosfera di morti di stragi di rapimenti eccetera parliamo di Miguel de Cervantes arriviamo al grande Miguel de Cervantes al Don Quixote arriviamo proprio nell'alta letteratura e quindi da mezzo morto a Don Quixote che ci parli? parlerete di letteratura di una bella opera di Miguel de Cervantes da tenere sul comodino no Miguel de Cervantes conosce la furia dei barbareschi questo è il titolo che voglio dare a questo intermezzo quindi non se ne esce oggi non usciamo nemmeno dice uno cosa c'entra Don Quixote ve lo spiego subito perché noi con Cervantes stiamo parlando di un grande scrittore ma anche di un uomo dalla brillante carriera militare forse non tutti lo sanno in un periodo in cui l'Europa l'abbiamo visto adesso si misurava con le forze ottomane su base quotidiana praticamente e Miguel de Cervantes nato nel 1547 morto nel 1616 considerato una delle più grandi figure della letteratura spagnola era però anche ripeto un grande militare era chiamato il Monco di Lepanto per via di un incidente accaduto in battaglia tra l'altro essere chiamati il Monco anche qua è come Clint Eastwood nella trilogia di Sergio Leone quindi oggi Clint Eastwood è un po' il tema è il vero tema sottotema ricorrente della nostra Clint Eastwood e i pirati Cervantes vive nel siglo de oro della Spagna perché questo questa epoca dove c'erano le rotte commerciali verso le Americhe verso il Pacifico quindi come al solito poi per le grandi potenze il loro secolo d'oro è il secolo buio di altre magari nazioni e popolazioni che subiscono la crescita di una nazione nemica cioè non so questo siglo de oro per le popolazioni native quanto sia stato de oro a incontrare gli spagnoli ma questa è una parentesi politica mia che non c'entrava niente Cervantes diciamo che ha conosciuto ecco la battaglia di Lepanto la gloria nella battaglia di Lepanto o non so se la gloria l'ho detto prima ha perso una mano nella battaglia di Lepanto quindi sicuramente l'ha vissuta con parecchio trauma però è stato uno dei soldati dei combattenti della battaglia di Lepanto quindi di un evento storico enorme oltre a essere ricordato poi lui come uno dei più grandi scrittori della storia quando lui conclude la battaglia di Lepanto l'esperienza cioè non è che la conclude lui quando lui conclude la sua esperienza bellica decide che i tempi erano maturi per tornare a casa e che forse era meglio fare lo scrittore perché dopo aver visto tutte queste guerre diceva oddio di sti tempi di oggi non lo so Flavio visto che se io e te conosciamo bene il mondo della scrittura e dell'editoria forse è meglio andare in guerra con i vascelli che provare a pubblicare un libro però anche questa è una parentesi che non c'entrava nulla stiamo parlando di un uomo Cervantes che ha visto quindi atrocità che ha avuto anche sicuramente traumi notevoli come al solito io provo a farvi immaginare lo scenario ma che finalmente può veleggiare verso casa dopo una lunga guerra quindi immaginatevi una sorta di odisseo che non vede l'ora di baciare la spiaggia della sua terra natale e dedicarsi a questa vita di contemplazione di arte ora sto un po' romanzando io sicuramente a Cervantes le avventure le battaglie gli piacevano anzi le testimonianze ci dicono che amava molto più la battaglia che l'ozio della caserma però immaginiamo invece che vuole tornare a casa ritirarsi scrivere e basta e proprio come odisseo il destino ha in mente per lui molte più peripezie e il ritorno a casa sarà una vera odissea allora una fonte questa apro un'altra parentesi divertente cioè non che finora sia stato divertente quello che abbiamo detto una fonte che ho studiato per questa storia dice Cervantes non sapeva tenersi lontano dai guai quindi questo è puro victim blaming cioè come se se l'ha andata a cercare lui ma non è colpa di Cervantes lui è una vittima è una vittima sottolineiamolo che nel settembre del 1575 si imbarca da Napoli assieme al fratello Rodrigo nella Galea El Sol diretto in Spagna nella sua borsa porta il congedo firmato da Don Juan de Austria è una tormenta in questo caso a fare da Deus ex Machina come nelle migliori storie come nelle storie più tragiche il maltempo che abbiamo nominato anche prima quando eravamo in Islanda con i predoni la fa da padrone anche qui e El Sol la nave dove si trovano Cervantes e il fratello rimane separata dal resto della flotta diventa quindi una preda facile viene ahimè circondata e abbordata a largo delle coste catalane dai corsari barbareschi guidati da tal Arnaute Mamì stremati dalla battaglia i passeggeri di El Sol si arrendono ai corsari che li portano ad Algeri torniamo nuovamente appunto ad Algeri che anche Cervantes ha quindi potuto vedere conoscere Cervantes rimane imprigionato ad Algeri per cinque anni questa è la sua storia quindi di rapimento e prigionia questo è il motivo per cui lui ha conosciuto la furia dei barbareschi lui ha tentato la fuga per ben tre volte ogni suo tentativo è andato a vuoto finché nell'ottobre del 1580 grazie all'intervento di alcuni missionari trinitari riesce a ottenere la libertà ovviamente dietro il riscatto mica perché era Cervantes allora ci stai simpatico lui torna in Spagna dove ovviamente trascorre poi gli anni da scrittore anche lì non proprio facili in ristrettezze economiche quindi Cervantes ti capiamo ti siamo vicini da colleghi scrittori allora Algeri l'abbiamo detto città prospera all'epoca ce lo diceva prima anche Flavio città uno delle città più fulcro della tratta degli schiavi rapiti dai pirati ma immaginatevi che aveva una popolazione pari ad altre città enormi e importanti centri di metropoli dell'epoca e Cervantes immaginiamo c'era un eroe di guerra un futuro genio della letteratura immaginiamocelo questa persona illustre per noi a studiarlo in catene al mercato degli schiavi schiavi che finivano in mano ai signori ai pascià che venivano venduti all'asta il nostro Cervantes venne tenuto d'occhio dai pirati ripeto non perché era Cervantes e allora ci stai simpatico per quello perché non era ancora il Cervantes che conosciamo ma perché aveva due lettere di raccomandazione nel borsello uno era il congedo firmato da Don Juan de Austria e l'altro il certificato di servizio firmato dal duca di sessa che gli garantiva una licenza di capitano lui avrebbe potuto comandare un suo corpo militare al termine della guerra quindi i pirati vedendo quest'uomo che aveva in borsa due lettere di questo tipo dice noi che siamo pirati ma non siamo scemi capiamo che questo è uno che conta che è un pezzo da 90 e allora si muovono per ottenere tramite lui un riscatto ingente in realtà Cervantes non era affatto un pezzo da 90 questa circostanza però salva questo errore questo scambio in un certo senso questo fraintendimento salva lui e il fratello dall'essere venduti all'asta immediatamente dall'essere magari mandati e poi persi in chissà quale casa di chi è tenuti in catene e scomparsi completamente dalle cronache hanno rischiato questo invece furono tenuti attenzionati perché sulla loro testa c'era questo alto riscatto da pagare e furono trattati meno duramente per i successivi cinque anni comunque Cervantes certo visse prigioniero in attesa di essere salvato i suoi genitori non potevano tenere riuscire a colmare questo alto riscatto richiesto per lui e il fratello in diverse occasioni questi frati trinitari che alla fine vi ho svelato che avrebbero un po' risolto la situazione si recavano ad Algeri per negoziare la liberazione e parlavano con il proprietario di Cervantes che era tale Dalì Mami e come vi dicevo prima il pirata che lo rapì era Arnaute Mami non so se sono parenti o la stessa persona con un altro nome comunque c'è questo Mami che li teneva prigionieri il prezzo era comunque troppo alto e alla fine i frati riuscirono in un primo momento a liberare il fratello di Miguel Cervantes ma non Miguel stesso Cervantes rimase ancora imprigionato come vi dicevo tentò la fuga ogni tentativo andò a vuoto in uno dei suoi tentativi si racconta che lui e altri prigionieri stavano cercando di raggiungere la costa dopo aver telato dalla gattabuia immaginatevi però la difficoltà comunque la fuga non era una cosa facile perché non è che dici esco me ne vado dal mio aguzzino mi lascio tutte le sbarre i portoni alle spalle le catene alle spalle sono libero sei libero ma cosa fai devi trovare la costa e devi trovare capitani compiacenti a portarti indietro perché non è che puoi andare da un altro pirata e dire ehi sono Cervantes quello che vale un sacco di soldi aiuti quindi lui e gli altri prigionieri fuggiti in uno dei tentativi si nascosero in una grotta vennero trovati il giardiniere che li aveva aiutati a fuggire venne impiccato Cervantes però si racconta che non ebbe mai punizione troppo severe ma mi lo rivendette a un altro pirata di nome Hassan ma anche qui nonostante Cervantes aveva sto vizio Flavio Testardi di fuggire c'era sto vizio che fuggiva non si sa come mai però non veniva pare che non venisse mai troppo percosso secondo me anche perché appunto lui era merce per loro quindi aveva un valore e quindi non lo si voleva magari ci avevano paura di indispettirsi qualcuno visto che hanno notato che c'erano sti legami importanti esatto esatto quindi non ci vedo molta in realtà empatia o un carattere mito come hai detto pirati ma non scemi insomma le percussioni non è che erano leggerissime dopo i nuverevoli sforzi preghiere la famiglia Cervantes riesce a raccogliere 300 dei 500 scudi che il nuovo padrone Assan aveva posto per il riscatto i frati trinitari tentano di nuovo di ottenere la libertà di Cervantes e aggiungono 45 scudi da una donazione vanno verso Algeri e cercano di liberare Cervantes e un altro prigioniero altri prigionieri fra cui un certo Palafox alla fine questo Assan questo padrone era molto molto recalcitrante anche lui però con i soldi che i frati avevano raccimolato riescono effettivamente a liberare Cervantes ma anche stavolta non gli altri prigionieri ad esempio questo Palafox è rimasto lì non ce ne voglia noi raccontiamo comunque la sua storia onoriamo la sua memoria ma è rimasto sotto Assan Cervantes però è libero e quindi grazie all'intervento di questi missionari trinitari all'aiuto della famiglia riesce a ottenere la libertà con il pagamento di un riscatto torna in Spagna e ripeto vi dico quest'altra cosa che ho già detto però quando lui ha iniziato a fare lo scrittore ha vissuto in pesanti di strettezza economiche tant'è che secondo me una volta non dico sempre mezza volta gli ha attraversato la testa un pensiero dire ma non è che era meglio se mi univo ai pirati e facevo il pirato mollavo tutto e diventavo un pirata questa Flavio è la prima come è andata questa puntata tematica sulle razzie e furie devastazioni dei pirati secondo te ma direi che per noi che ci limitiamo ad ascoltare queste storie a distanza di qualche secolo di sicurezza è andata benissimo per chi le ha vissute forse è andata un po' un po' peggio forse l'unico a cui è andata bene è stato mezzo morto e già il fatto che che è mezzo morto indica già questo nome indica quanto gli è andata bene esatto perché poteva essere tutto morto e risparmiarci un sacco di problemi ma vabbè noi vi lasciamo aspettandovi sabato prossimo ma visto che vi avremmo messo sicuramente un po' di paura con questa puntata guardate sempre sotto il letto che non ci sia un pirata con la sua sciavola pronto a farvi del male e dormite se potete sonni tranquilli leaver johnny leaver oh leaver johnny leaver for the world is long and the winds don't blow and it's time for us to leave her grazie a tutti grazie a tutti 참 Grazie.